Il prossimo pezzo invece è un pezzo filosofico che tratta... C'è quando una persona mi conosce, no? Comincia a parlare di voi, di pittà, di pittà, di pittà, di pittà, di pittà, di pittà e comincia a chiedersi tu da che parte stai? Questa canzone si intitola Non si capisce da che parte stai Non si capisce da che parte stai Vita o morte, testa o luce, guerra o pace, buio o luce Chissà cosa ti piace, chissà cosa ti piace, di più Chissà cosa ti piace, di più Io o Satana, maschio o femmina, Cristo o Giuda, la carne o l'artuga, chissà cosa ti piace Chissà cosa ti piace, di più Chissà cosa ti piace, di più Gli rossi o i neri, i più sissieri o i misteri, gli americani o i più ottomani, i bilateri o i napoletani Chissà cosa ti piace, di più La droga o la città, di più E tu, poi la plastica 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 La Juventus o la Roma La Schiava o la Patrona La Juventus o la Poesia Salve io o Porta Pia Che cosa di piacere 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 Grazie a tutti Grazie a tutti